Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Ladri prendono di mira l'asilo Manfrini di Fano, ironia della sorte, l'ultimo colpo appena qualche ora prima dell'inizio dei lavori di rafforzamento dei dispositivi di sicurezza annunciati dall'assessore ai servizi educativi Il lupo di Fano catturato nel giardino di una villa, stanco e stremato dalla fame, sta bene e si trova in un bosco protetto vicino Bologna Cade in camera da letto un'anziana madre di 88 anni, chiede aiuto alla figlia che dorme nella stanza accanto però con i tappi all'orecchia e dunque non sente nulla Le urla della donna allarmano i vecini di casa che chiamano la polizia Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione Occhio alla Notizia Soltanto un giorno fa l'assessore ai servizi educativi del comune di Fano, Samuele Mascarin, aveva annunciato alla radio che oggi sarebbero partiti i lavori per rinforzare i sistemi di sicurezza di un asilo Che ultimamente era stato preso di mira un po' troppo spesso dai ladri Ironia della sorte, proprio il giorno dell'annuncio, di notte l'intrusione nuovamente dei ladri che questa volta pensate hanno rubato un gelato Rischiare una denuncia per introdursi in una struttura pubblica e rubare solo un gelato? A quanto pare è possibile, visto che la scuola dell'infanzia Manfrini a Sassonia di Fano è successo anche la notte scorsa Dopo quattro furti, tutti con magro bottino messi a segno nel giro di pochi mesi Questa mattina l'ennesima brutta sorpresa per gli operatori dell'asilo di Via della Marina Esasperati anche i genitori che nelle scorse settimane avevano lanciato un appello tramite Fano TV Per sollecitare l'amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti Dopo qualche giorno, l'assessore ai servizi educativi, Samuele Mascarin, aveva incontrato le famiglie Promettendo lavori di rafforzamento degli infissi in tutto l'immobile Operazioni iniziate, ahimè, solo questa mattina Qui la gente continua a entrare e a fare i suoi comodi all'interno della struttura Quindi ribadita la necessità anche di installare un sistema di videosorveglianza? Soprattutto, io penso che quello sia necessario perché è una cosa importantissima A questo punto anche per l'autorità stessa è capire, vedono tutto, abbiamo una dimostrazione Fortunatamente siamo molto unite come mamme e quindi cerchiamo ognuna a modo suo insieme Quello che possiamo, cerchiamo di fare per i nostri bambini Quindi ovviamente cercare di ottenere più sicurezza Certo, questa è la cosa principale, sicurezza e soprattutto l'igiene Perché è una cosa impensabile che gente entra, non si sa che gente sia E può toccare e mangiare i cuscini dove i bambini fanno attività motoria Non è possibile Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano Coordinati da Stefano Seretti Che però non hanno trovato segni di scasso né alla porta d'ingresso né alle finestre Che il malvivente fosse già dentro potrebbe essere una delle ipotesi Intanto all'assessore Mascarin Viene il sospetto che si tratti di un vero e proprio accanimento nei confronti di questa scuola L'unica presa di mira negli ultimi periodi sulle 40 presenti in città Dispiace rilevare che è bastato annunciare ieri a una radio Il fatto che questa mattina ci sarebbero stati gli operai del comune al Manfrini Per ritrovarsi questa notte un'effrazione che tra l'altro ha un sapore quasi simbolico Perché sono entrati solo nella cucina, hanno mangiato un gelato e se ne sono andati Lascia veramente pensare purtroppo che si tratti insomma di una sfida di qualche buon tempone Che però chiaramente non fa ridere nessuno perché si tratta di una scuola dell'infanzia E quindi ovviamente si attiva poi un allarme anche giustificato da parte degli utenti, delle famiglie E anche da parte nostra che ovviamente questa mattina abbiamo fatto immediatamente denuncio ai carabinieri Abbiamo fatto partire il protocollo classico per la sanificazione dei locali che è stato interessato dall'intrusione E abbiamo anche, come avevamo preso impegno per una questione di correttezza oltre che di trasparenza Anche messo una comunicazione all'ingresso della scuola per avvisare ovviamente di quello che era accaduto E delle azioni che si era proceduto a mettere in campo proprio per garantire la pulizia, l'igiene e la sicurezza Quando avremo dopo il bilancio un quadro finanziario diciamo più agevole per l'ente Io ribadisco l'impegno a fare la richiesta per una videosorveglianza Anche come elemento di deterrenza tenuto conto soprattutto che appunto le caratteristiche di queste frazioni Ormai lasciano pensare all'ipotesi che descrivevo Stava uscendo dalla garage di casa con la bicicletta quando l'è caduta una persiana di legno in testa Che si è staccata dalla villetta adiacente alla sua E' successo ieri mattina intorno alle 8 ad una signora di 63 anni residente in Viale Gramsci a Fano Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso di Fano Gli agenti del commissariato che per ragioni di sicurezza chiaramente hanno intimato alla signora 46enne Di sistemare anche l'altra persiana che per fortuna non si è staccata, non è caduta Che però era in precarie condizioni, era un po' instabile Capiamo argomento, il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli Lascerà la delega alla sanità dopo aver risolto le questioni più spinose Lo ha ribadito lo stesso governatore a margine della seduta del Consiglio regionale In cui ha riferito dell'inchiesta sugli appalti sanitari Quanto al suggerimento di un assessore tecnico Non mi sembra il caso in un momento in cui i tecnici sono oggetto di inchiesta Ha detto Ceriscioli, avviata la riforma sanitaria Ha poi spiegato, ci sono le partite dell'unione degli ospedali Come Pesaro Fano e quella delle assunzioni Ceriscioli ha parlato di tempi rapidi per la prima volta E di una certa incompatibilità tra il ruolo di presidente della giunta E una delega pesante come la sanità Potrei fare molte più cose se non l'avessi addetto Ad esempio far partire veramente la stazione unica appaltante Che porterebbe risparmi e trasparenza negli appalti E al sicuro il lupo che è stato catturato nei giorni scorsi In una villetta nei pressi della liscia a Fano Ora si trova in un bosco protetto in attesa di essere rimesso in libertà Fortunato di nome di fatto Il lupo catturato sabato scorso nel giardino di una casa In via Primo Maggio a Fano Dove era finito disorientato e sotto shock a metà mattinata Ma dallo stress e dallo spavento preso in città L'esemplare di lupo, forse cieco-slovacco È passato a riposo e al sicuro nei colli bolognesi Infatti dopo le prime cure fornite dal personale del CRAS Il centro recupero animali selvatici della provincia di Pesaro e Urbino L'animale è stato trasferito nel centro tutela ricerca fauna esotica e selvatica di Montiadone Per Elisa Berti, responsabile del centro specializzato Si tratterebbe di un vero lupo Anche se non si escludono in croci i pregressi con i cani Ora l'animale si trova in un bosco protetto Silenzioso e idonio Suo ricupero alla riabilitazione Mangia carne selvatica E dorme in un giaciglio di paglia tutto suo Il lupo di Fano fa la bella vita insomma Dopo aver passato ore e ore a girovagare dai monti al mare Ha mangiato poco E quel poco che ha ingerito Fortunatamente non gli ha provocato alcune intossicazioni alimentare Anche se l'esemplare non presenta fratture o ferite Potrebbe essere stato colpito da un auto E poi impaurito aver perso l'orientamento Comunque come ci hanno confermato Gli operatori del centro È ancora presto per dire quando e dove verrà rilasciato Di certo non prima di qualche giorno Dipenderà dalle sue condizioni di salute E dall'esito degli esami clinici Intanto si sta pensando a un radiocollare Per non perderne le tracce Ma per ora è solo un'ipotesi La disavventura di Fortunato Così ribattezzato come la città di Fano Fano un fortune Ha riacceso i riflettori sul problema del crass provinciale Esperto in simili imprese Ma che per mancanza di fondi Non è riuscito ad essere presente Come ha spiegato Emanuela Giovannelli Dell'associazione Ampana Gli operatori non riescono più ad intervenire Anche perché non hanno nemmeno i soldi per il calburante Le sorti del crass Ora sono in mano alla regione Che probabilmente ha specificato Rigirerà alla provincia queste competenze Ma ad oggi mancano degli accordi economici Si parla in totale di 120 mila euro circa l'anno Ha detto Che comprendono i costi per gli operatori I veterinari I mezzi E il cibo per gli animali Gli operatori del crass Sono pagati fino al 30 di questo mese Però essendo finita la benzina Non avendo più le convenzioni con i veterinari Non avendo più neanche le convenzioni con la ditta Che deve effettuare lo sbattimento E attualmente delle carcasse Ovviamente anche recuperando gli animali Loro non saprebbero cosa fare Io sono dell'associazione Ampana E noi associazioni abbiamo raccolto anche dei fondi Per poter pagare la benzina Questo però chiaramente non è sufficiente Ripeto Perché seppure si presentassero Non saprebbero poi cosa fare Cioè dove portarli Perché sono operatori E non sono veterinari Torniamo a parlare della vecchia gestione Della piscina di Nisal Valai Perché il Tribunale di Verona Ha rigettato la richiesta risarcitoria Avanzata dalla Sport Management Nei confronti del Presidente della Fanon Fortuna Il nuoto Giorgio Andrea Ricci La sentenza la condanna inoltre a farsi carico Di tutte le spese legali Comprese quelle di Ricci La causa civile era stata intentata Nel 2013 dalla Sport Management Che richiedeva un risarcimento Di 25 mila euro Per alcune dichiarazioni Ritenute diffamatorie Rilasciate da Ricci A mezzo stampa Anche alla nostra emittente E ad alcuni siti web Sulla società di Verona Che non si sarebbe mostrata All'altezza della gestione Della piscina Anche in tema di parametri di salubrità Il tutto tenuto anche conto Delle reali ed effettive problematiche emerse Il giudice ha stabilito Che le dichiarazioni di Ricci Sulla questione anche di rilevanza pubblica Possono essere inquadrate Nell'ambito del legittimo esercizio Del diritto di critica Che ha avuto luogo Con espressioni aspre e pungenti Ma non improntate All'attacco personale E all'offesa volgare e umiliante Adesso torniamo a parlare invece Delle elezioni comunali Quelle che si terranno Il prossimo mese di giugno Perché a Marotta È stata presentata Una lista civica Che sostiene Il candidato sindaco Giancarlo Loccarini Imprenditori professionisti Estranei ed incarichi pubblici E tutti marottesi Sono loro i 16 candidati Della lista Marotta Per una nuova città 8 uomini e 8 donne Che affiancheranno Nella sfida elettorale Del mese di giugno Il loro aspirante sindaco Giancarlo Loccarini 69 anni Medico Già sindaco di Mondolfo Dall'83 all'85 E in precedenza Consigliere regionale Dopo oltre 30 anni Quindi Loccarini ci riprova Con una squadra di giovani In gran parte Espressione del comitato Pro Marotta Unita Che ha perseguito E raggiunto L'unificazione di Marotta Definita la Berlino Dell'Adriatico Adesso invece Il loro obiettivo È quello di mettersi in gioco Per cambiare il futuro Della città Puntando sul rilancio Del turismo La lista Marotta Per una nuova città Che si presenterà Alle elezioni Il 5 giugno Per il rinnovo Del consiglio comunale Del nostro comune Punta Prevalentemente Ad avere una nuova concezione Del nostro territorio Soprattutto Il nostro punto È quello di dare Una identità nuova A questo territorio Anche a partire dal nome Inserendo il nome di Marotta Per sottolineare Quella che è La vocazione turistica Balneare Di questo territorio Noi vogliamo costruire Una città Pluricentrica Dove ogni zona Abbia una sua caratteristica E una sua vocazione Per i componenti Che sostengono Loccarini A candidato sindaco Marotta È stata ferma Troppo a lungo Servono Scogliere merse Per la difesa Della costa Creare occupazione Fare vivere Il centro storico Lavorare sui servizi Sui trasporti Sull'ambiente E diminuire Tasse e tributi Che ora incidono In modo pesante Sui cittadini Il gruppo apartitico È pronto Per la contesa elettorale Una lista Che ha tante competenze Che ha Tante capacità Ma soprattutto Ha tanto Tanto entusiasmo Che spero Che possano portare Questa nuova città Che noi vorremmo costruire Verso Una visione Positiva Per portare Benessere Per portare serenità Alle famiglie Di tutto Il territorio E ancora cronaca Un'anziana madre Di 88 anni Chiede aiuto Alla figlia Che dorme Nella stanza accanto Perché ferita A terra Dopo una caduta Tanto da non riuscire Più a muoversi Lei però Non sente nulla Perché ha letto Con i tappi Alle orecchie Così A soccorrere L'anziana ferita Sono dovuti intervenire I vigili del fuoco È accaduto a Fano Nella notte Tra venerdì e sabato In una palazzina Situata al secondo piano Qualcuno dei vicini Ha sentito le grida E ha allertato La polizia Che successivamente Ha chiamato i pompieri E poi l'ambulanza Che ha trasportato L'ultra ottantenne Al pronto soccorso Sarà Gerardo Colombo Magistrato e simbolo Di Mani Pulite A ritirare Il premio Passaggi 2016 Momento centrale Del Passaggi Festival Dedicato alla saggistica In programma Dal 23 al 26 giugno Nel centro storico E sul lungomare Di Fano Il presidente della rassegna Nando dalla chiesa Consegnerà il premio Al magistrato Venerdì 24 giugno In piazza 20 settembre Viene premiata Commenta dalla chiesa La scelta Dell'educazione Alla legalità L'impegno nelle scuole E con gli studenti Nonché il valore E l'indipendenza Del magistrato Non solo negli anni Di Tangentopoli Ma anche Nelle grandi inchieste E a proposito di Passaggi Festival Vi ricordo che Fano TV È la televisione Sarà la televisione ufficiale Di questo importante Festival Della letteratura E della saggistica Adesso Chiudiamo il telegiornale E lo facciamo Anche se è martedì Con il calcio Ieri non siamo andati in onda Perché era festa E quindi Vi facciamo vedere I gol E subito dopo Trasmetteremo la partita Integrale Dell'incontro Tra il Fano Calcio E il Monticelli Monticelli Che lo ricordiamo È un quartiere Di Ascoli Piceno Grazie a una doppietta Di Gucci Sapete il risultato È di 2 a 0 Per l'Alma Juventus Fano I Granata Conservano così 5 punti di vantaggio Sul campo basso È tutto per il telegiornale Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona serata Arrivederci